M. Dino Pagliari, scherzi del destino. Ripartito col Pisa incontrando il Frosinone, squadra con la quale è arrivata ai play-off, riparte da Sorrento. L'anno scorso a Sorrento un pareggio che chiuse un periodo d'oro, poi si spense la luce. Basta, hai detto tu, 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 ma io questi calcoli sinceramente non li faccio. Vivo di quello che sta succedendo adesso e adesso succede che abbiamo battuto il Frosinone, ci stiamo allenando bene, ci stiamo preparando per cercare di battere anche il Sorrento. Ha detto anche in conferenza prima ai colleghi della stampa, un passo alla volta, adesso occhi puntati sul Sorrento e cerchiamo di ottenere il meglio a questa trasferta. Ma lo dico sempre, ormai è un mio tormentone, perché credo che sia la cosa più pratica, più pragmatica, più semplice da vedere. Cioè è un obiettivo che ti sta a sette giorni, facilmente raggiungibile e visibile. Quindi ci stiamo preparando per affrontare il Sorrento, cioè che domani faremo una valutazione ancora più dettagliata del Sorrento per cercare di trovare difetti che possiamo sfruttare. La primavera non arriva, continua a piovere, però una buona notizia, almeno l'infermeria si è svuotata. Sì, abbiamo recuperato tutti, abbiamo lasciato oggi qualcuno a riposo per precauzione, perché il campo ovviamente non era dei migliori, però va bene. Ci siamo tutti. Quindi il Pisa va a Sorrento per lanciare un altro segnale al resto delle concorrenti? Il Pisa va a Sorrento per cercare di battere Sorrento, ma l'ho già detto, ripeto, sto dicendo sempre le stesse cose, perché se una squadra, come ho detto ai ragazzi, batte il Frosinone, può giocarsela contro tutti.